Quanti anni sono passati? 13, 15? 17 anni. Segui la verità, la quale è la vita. Perché vuoi che non ve ne è mai fregato nulla di me? Perché un fratello fascista in famiglia è sempre un disonore, è sempre stato così. Papà è morto. Se non hai portafogli come possiamo la montiera? Io non avevo la mutanda come potevo avere il portafoglio. Ma tu che cazzo ne sai? Ma dove stavi? Dove stavi quando te li sei andato? Che ne sai? Trappriagati. Rilassati, rilassati. Tu mi odi, io ti odi, non ci capiremo mai. A volte uno si dubbio nella vita di poter cambiare le cose, ma... evidentemente è meglio così. Ti ha mai detto che io sono tornato a Procida? Giurei a me stesso che non sarei tornato mai più. oppure le cose, mi petita. E un lada più dentro da lei. E tutta l'aki epiliss 2016. E sicurdo è nulla di cuore. Giurei a me stesso che via. authentissce, ma chi Grazie a tutti